Innanzitutto vediamo di che si tratta. Io da ex magistrato sono abituato prima di esprimermi a verificare di che parliamo, di fatti. Stiamo a prime notizie giornalistiche su cui ti puoi fare un'idea ma non puoi esprimere una valutazione soprattutto perché sono fatti così delicati e coinvolgono istituzioni così importanti. Certo, quello che si legge sui giornali è qualcosa di molto grave, quindi bisogna capire se sono letture di fatti gravi che hanno una veridicità e allora sono fatti gravissimi. Se invece, come francamente ci auguriamo, che non siano fondati allora si può tirare un sospiro di sollievo perché ogni qualvolta ci sono indagini di questo tipo che coinvolgono personaggi che ricoprono incarichi istituzionali importanti che addirittura sembrano coinvolgere magistrati. Non è una bella cosa leggere queste cose, quindi credo che quello che sta accadendo è molto grave. Sono fatti gravi che dobbiamo seguire con molta attenzione, senza dare giudizi affrettati perché i giudizi affrettati sono sempre e comunque scorretti e pericolosi, però anche quello di sperare che ci sia una chiarezza in tempi brevi perché è una brutta vicenda con un'ombra molto brutta che si annida su fatti tra l'altro recentissimi.